Allora, il mio apporto in un'eventuale formazione politica è dato anche non solo dal fatto di essere presente fisicamente o fare lavoro che potrebbe fare qualsiasi persona, essere presente ai banchetti, non lo so, qualsiasi cosa. E principalmente, come qualsiasi persona, essere sfruttata per quello che sa fare, ok? Non sempre quello che uno sa fare magari è utile a un partito, però nel caso mio il fatto di cantare, scrivere canzoni di protesta o poter utilizzare le mie competenze linguistiche nell'inglese o con il greco come qualcosa che è un vantaggio, una risorsa, Penso che sia il minimo Per esempio, una serie di relazioni con la Grecia che potrebbe essere in greco, sempre una cosa eccezionale, penso che in greco c'è, visto che sta succedendo qualcosa attualmente, contattare delle persone Attraverso una lingua comuni, almeno uno dei due è la lingua La madrelingua Tradurre e far vedere quello che succede in Italia Al mondo, attraverso Sotto titolo e una voce fuori di campo in inglese Sul palco ho visto anche Non canzoni particolarmente Non vere canzoni di protesta Ora, le mie sono perfette? Assolutamente no Stanno su quella strada? Secondo me si Mi manda una persona Continuamente delle Adesso Degli invidi a Mettere mi piace a cose di forza del popolo Ma io a te Ho chiesto, ho mandato Per le liste delle canzoni di protesta Ho mandato canzoni di protesta Ho mandato una Un 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 nuovo volantino Ehm Locandina Del Del Di una Un Un incontro A Villa Paffini Per Cantare le canzoni di protesta Non mi ha cagato Ehm Sto cercando persone che prendano un'interna per la Roma per il paese al primo maggio Non ho mai cagato Ho messo altre due canzoni e non ho mai cagato Beh ragazzi Adesso non ti cago io Più io Un altro che ho conosciuto la manifestazione Ha fondato questa La prima cosa critica Allora La critica deve essere a 360 gradi Nel senso che siccome le canzoni le ho fatte E non mi sembrano una schifezza E a qualcuno è piaciuto Può anche Ci sta anche che non ti piace come accompagno Ma fare delle I commenti Poi non giustificarli musicalmente E Non dire Magari la canzone Gli accordi mi piacciono Mi piace come la cantata Mi piacciono le parole Ti concentra solo una cosa che non ti piace Per me sei un coglione Non perché Non ti piace quello che faccio io Perché è un atteggiamento Da sto cazzo Poi mi manda un video Fatto bene sicuramente E questo lato Però è un genere che non mi piace E il canto secondo me Non mi piace Ma se io avessi dovuto fare un commento Avrei detto Tutte queste cose E poi avrei raggiunto Però il canto non mi piace Non avrei detto Il canto non mi piace E basta Perché io Non sono un coglione Chiaro? Cioè le persone che Ti distruggono Solo su una cosa Che A meno che proprio tutto Vabbè ce n'è uno in Italia Che vabbè Canta di merda con l'oculare Ma a parte questo Sono persone in cui Io non voglio niente Avere niente A che fare Non perché Ma io a certe volte Non perché Dicono qualcosa che non piace di me Perché Come sapete Io Non sono Non reagisco bene neanche Anche a Grande leccate di culo Legcate di culo Preduite Io reagisco bene A atteggiamenti sobri Alla verità Alla un'unità intellettuale E se le persone Non hanno questo E sparano cazzate Vedono solo le cose Positive E negative A secondo Come gli fa comodo E noi Parlano del resto Perché nessuna cosa Salvo la ricazza Che completamente merda O completamente Masterchef chissà che cosa ecco ripeto io non sono andato a Pesaro e ho detto a quelli che alcuni ha detto il pullman un par de palla perché io ho chiesto se c'era il bagno è cominciata una presa per il culo per cui per fortuna perché la persona che voleva venire non c'è andata con quel pullman perché se avesse pagato i soldi e da otto e mezza aveva spostato alle 5 e mezza beh io mi sarei fortemente incazzato non si fa partire le persone alle 5 e mezza perché se le persone hanno una macchina per andare all'appuntamento alle 5 e mezza si mettono insieme d'accordo in 4 e vanno in macchina è chiaro? costerà un po' di più però vanno in macchina un pullman senza bagno e per non so quanto 3 e mezza si si ferma si ma se ci sono le persone che hanno bisogno devono stare per mezz'ora a tenersela perché 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 questo pullman non ha il bagno cioè ripeto il solo fatto che le persone apparentemente la persano come noi non vuol dire che siano perfette per quanto riguarda le firme ho saputo che non hanno abbastanza avvocati per fare tutti i giorni questi banchetti ma aspettare magari un mese e fare una campagna per trovare le persone per poi perché qui ragazzi questi rischiano di non raccogliere le firme perché sono organizzati male perché sono organizzati male i banchetti che stanno in giro a Roma sabato domenica tutti devono sapere che sta lì c'è un posto che c'è il bacchetto tutti i giorni in un posto no un giorno in una zona un giorno in un altro un giorno quell'altro perché la gente poi deve andare sul sito deve andare a vedere che giorno è cioè metti uno fisso al centro versiamo sempre lì e chi ci vuole andare ci va troverà un giorno libero sa che lì c'è sempre però così la penso io eh no perché tu critichi eh certo se critica qual è il problema perché se non fate le cose fatte bene si è visto come è andata a finire anche per alcune dalle hanno racconto le firme ma non hanno utilizzato proattivamente anche raccolta le firme per fare buona propaganda politica prendevano le firme e mandavano la gente via non funziona così arrivederci